Le ferrovie del nord barese, le ferrovie sud-est e le ferrovie del Gargano nella regione Puglia da venerdì prossimo dovranno assicurare una percorrenza dei treni con il limite massimo nei 50 km all'ora. Tutti i gestori che non hanno reti dotate di sistema di controllo marciatreno infatti dovranno adeguarsi alla direttiva dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, giunta attraverso una circolare nella giornata di lunedì. Le conseguenze naturalmente saranno pesanti soprattutto per i pendolari con tempi di percorrenza che aumenteranno a dismisura. Il problema in realtà non riguarda solo la Puglia, bensì l'intera nazione e tutte le ex linee in concessione che tramite il decreto del ministro del Rio ha disposto il passaggio sotto l'ANSF di quasi tutte le ferrovie concesse. Da una prima stima dei tecnici di ferroviaria potrebbe saltare un treno su due. Una naturale reazione all'incidente che il 12 luglio ha provocato 23 morti sull'Andrea Corato, linea a binario singolo. Regioni e Astra però sono sul piede di guerra. Chiederanno all'ANSF e al Ministero delle Infrastrutture di ammorbidire i vincoli. Il limite di velocità verrà applicato ovunque pure per le ferrovie Nord Milano, la principale linea privata del paese. Va bene dare ai gestori un termine per adeguarsi, commenta l'assessore Gianni Giannini, ma imporre una limitazione del genere dalla sera alla mattina rischia di essere controproducente e di spingere decine di migliaia di persone a utilizzare il mezzo privato.